Amici di Teleromagna e naturalmente amici di luoghi e misteri ben trovati, siamo ancora una volta insieme e il nostro viaggio continua, il nostro perché è il mio ovviamente che ho il grande onore e il piacere di presentare questa serie di puntate che ormai è giunta alla quarta edizione e il nostro perché è anche e soprattutto il vostro ma è anche il cammino di chi ci conduce ed è il nostro posso dirlo Claudio Calistraccia, Claudio consigliere della biblioteca Bosano De Boni di Bologna ma soprattutto nostro conduttore perché è un grande esperto di astrologia ed è un docente di astrologia. Il tema di questa puntata, di questo nostro cammino è un tema un po' strano e allo stesso tempo difficile forse anche da capire perché ne siamo in contatto tutti i giorni ma non ci siamo mai posti, vogliamo definire lo problema o forse non ci siamo mai chiesti il fatto e non ci siamo mai posti come domanda il fatto che la musica possa essere usata come terapia, come terapia e a volte anche diventa una terapia per portare alla guarigione. Ecco che si inserisce ovviamente in tutto questo il nostro titolo Misteri, è un mistero forse qualcuno cercherà di spiegarci che in effetti non lo è, bisogna solo studiarci sopra ma poi abbiamo scoperto anche che ci sta bene anche luoghi perché c'è un luogo particolare nel mondo dove viene realizzato qualcosa di particolare che serve per chi come ad esempio il nostro interlocutore usa la musica come terapia. Ma dove nasce tutto questo Claudio? Io partirei da noi stessi, cioè partirei dal suono il suono quindi l'udito, l'orecchio che riceve i suoni e quindi il luogo misterioso secondo me siamo noi stessi che riceviamo i suoni dall'esterno e che in qualche maniera a seconda dei suoni che riceviamo diamo delle risposte particolari. Questo è il punto di partenza. I cinque organi di senso sono importantissimi l'udito è molto importante, l'udito è legato al suono, è legato alla musica e guarda caso la musica è legata strettamente ai pianeti e strettamente all'astrologia perché gli aspetti fra i pianeti, dopo lo vedremo, sono rapporti musicali, quindi i rapporti, le note sono legate ai pianeti e questo gli antichi lo sapevano, non è una cosa nuova, da Pitagora fino praticamente ai Greci eccetera e anche nel Medioevo, nel Rinascimento per esempio si curava con la musica. Cosa voglio dire? C'erano delle malattie, gli antichi avevano capito che il suono di certi strumenti musicali che è legato a certi pianeti, perché ogni strumento musicale è legato a un pianeta, ecco per esempio il violino è legato a Venere, il contrabbasso è legato a Saturno, avevano visto, il tamburo pure, legato a Saturno, che il suono di questi strumenti musicali poteva curare certe malattie. Classico è quello che diceva Marsiglio Ficino in quel periodo, diciamo, quindi siamo 1400-1500, per curare la famosa melancolia, melanconia, che sarebbe un po', non è la depressione di oggi, è una forma particolare della struttura del corpo in cui si accumula un umore che è l'umore melanconico e cioè la bile nera e che è quello che dà sia i geni sia in qualche maniera però dà le persone che si chiudono in se stesse, gli introversi eccetera. Gli antichi avevano visto che usando certi strumenti, cioè certi strumenti collegati quindi a Saturno, perché è Saturno che dà questa melanconia, questo umore. Mi permetti, strumenti che nell'antichità non erano quelli di oggi, ovviamente. Sì, però alcuni strumenti, tipo il tamburo, anche i suoni, l'arpa, tipo questi strumenti qua, la cetra, erano strumenti che venivano usati, utilizzati, no? Più avanti anche lo stesso violino, un altro strumento, diciamo così. Quindi questa cura degli umori del corpo, perché dovete pensare che il nostro corpo è formato da quattro umori che possono variare, questo lo diceva Ippocrate, a seconda della nostra struttura fisica, a seconda delle cose che noi facciamo. Quando c'è un squilibrio fra questi umori, noi ci ammaliamo. O quando questo, diciamo, questo equilibrio che noi abbiamo dentro non corrisponde, diciamo così, a come stiamo noi fisicamente, noi abbiamo una nostra complessione, c'è un certo nostro equilibrio. Quando questo equilibrio sballa, cambia da quello che è naturale, noi ci ammaliamo. Gli antichi avevano capito che potevano riportare all'equilibrio, alla normalità, gli umori e di conseguenza le persone, non è che potessero guarire grandi malattie, per alcuni libri di malattie, potevano essere curate proprio con il suono e con la musica. Ecco, e quelli più affezionati a questa serie di puntate, a questo nuovo format, Luoghi Misteri, ricorderanno che nel nostro cammino abbiamo ospitato anche uno sciamano, che ci ha, in un certo senso, aperto le porte verso quello che può diventare un equilibrio nostro ascoltando certi tipi di musica e soprattutto, come sentiremo invece dal nostro interlocutore, Luca Vignali, che è fra l'altro un violinista, sentiremo come certe vibrazioni dei suoni possono intervenire su di noi per trovare questa armonia del nostro corpo, che poi porta in alcuni casi, come dice anche lo stesso Luca, a guarigioni, a guarigioni di malattie per le quali non si erano trovati antidoti per essere guariti. E quindi rimane comunque un mistero, un mistero come abbiamo sentito Claudio, esplorato fin dall'antichità. Beh, diciamo che la vibrazione, cioè che il suono è una vibrazione, la vibrazione è legata agli aspetti fra i pianeti, alla distanza fra i pianeti, quella che gli antichi chiamavano l'armonia delle sfere, che Keplero chiamava l'armonia delle sfere. Quindi una certa vibrazione, un certo aspetto, può dare un certo tipo di caratteristica, un certo tipo di... ecco, questa immagine, possiamo partire da questo, è Keplero e il suo libro, l'armonice smundi, l'armonia del mondo, le armonie anzi del mondo, è un tomo di 300 pagine, che lui ha scritto, e praticamente dove tratta questo discorso dei pianeti, dei suoni e del pentagramma. Non dimentichiamo che le note sono sette, e i pianeti sono sette, i pianeti sacri, cioè praticamente. Quindi ogni nota corrisponde in qualche maniera a un pianeta, quindi corrisponde a un suono, quindi corrisponde a una vibrazione. A Keplero dobbiamo anche lo studio del cosmo, ovviamente. Sì, però lui è partito, è arrivato allo studio del cosmo, proprio vedendo queste cose qua, vedendo la musica. Vogliamo intanto conoscere Luca Vignali e sentiamo cosa ci dice a proposito dell'antichità, di quello che... quando nasce, diciamo, nell'uomo, questo momento nel quale l'uomo capisce o interpreta che con certe vibrazioni, dati soprattutto dalle corde o dai tamburi, e in quel caso sono le pelli che vibrano, ci si può trovare dell'armonia interna per arrivare alla guarigione. Sentiamo. Non solo nell'antica Grecia, praticamente curavano e non solo curavano, utilizzavano i suoni per far sì di trovare un certo equilibrio nel nostro corpo e non soltanto nel nostro corpo. I greci utilizzavano anche a livello emozionale, cioè per l'emozione, ma però è anche prima dei greci questi trattamenti li facevano ai tempi di Egizia, addirittura dei Someri, anche prima. Bene, ci ha allargato il giro d'orizzonte, no Claudio? Quindi possiamo rimanere su questo tema per un attimo. Una cosa che ho dimenticato prima di dire, lo strumento classico per curare la melanconia era il liuto, che è uno strumento particolare che si usava nel Medioevo, perché quella musica arriva alle cellule, si sa che anche i suoni, pensiamo anche agli ultrasuoni, spesso servono a curare anche delle malattie, no? Allora, la cosa è questa, lui giustamente ha parlato dei greci, tutto comincia con Teone di Smirne, dovrebbe esserci un'immagine 4, dove praticamente lui aveva visto che se prendeva dei vasi, questi vasi e teneva un vaso vuoto e l'altro vaso lo riempiva, sì perfetto, un vaso vuoto e l'altro vaso lo riempiva per esempio a metà, poi nel secondo blocco teneva un vaso vuoto e l'altro vaso lo riempiva per un terzo, poi il terzo esempio, un vaso vuoto e a fianco invece praticamente due terzi, aveva, toccando questi vasi insieme, aveva dei suoni differenti, questi suoni differenti non sono che le tre basi principali, cioè l'ottava, la quarta e la quinta. Sì, perché ancora non eravamo alla musica col do, re, mi, fa, sol, la, sì. Però sono delle armoniche, quindi sono delle armonie, che in qualche maniera sono alla base degli aspetti astrali, perché poi sono l'opposizione, la quadratura, la congiunzione e il trigono. E fra l'altro se provate a mettere in fila sette bicchieri e avete l'orecchio assoluto, cosa della quale sono dotati solo in pochissimi purtroppo, se avete l'orecchio assoluto diceva mettete sette bicchieri e li riempite ad un certo livello, questi bicchieri riempite ad un certo livello con le vibrazioni originano poi le sette note, no? Il principio è questo, perché il primo vaso riempito a metà, poi un terzo, poi due terzi, quindi chiaramente si crea l'acqua, determina, l'acqua ricordiamo che è un mezzo e quindi in qualche maniera i suoni passano attraverso l'acqua, pensate, ha semplicemente tirato un sasso in acqua e si formano tutte le spire concentriche, no? Quindi questa è una cosa geniale, diciamo così, che loro avevano già visto e usavano non solo i vasi, ma usavano anche il flauto, con flauti di diversa lunghezza, sempre con questo discorso, la metà, due terzi e un terzo. Un terzo, è certo. E la musica e i suoni, io li ho definiti, Claudio, o perlomeno, li abbiamo definiti come domanda, sempre al nostro amico Luca Vignali, come domanda come musica e suoni nell'arte della guarigione. Ma Luca Vignali va oltre, lo sentiremo nella seconda domanda o clip che abbiamo preparato per voi. Regia. Ok, allora, musica tantra è una parola unica che si combina, come si dice, come si vede, come si sente, musica tantra. Cosa vuol dire? Praticamente, musica, ovviamente gestiono tutti i suoni, abbinate a delle tecniche di tantra. Io ho avuto la fortuna di fare tantissimi anni di tantra nei monasteri in Tibete, in Mongolia, un po' tutte le varie parti dell'Asia, e non solo. E questo mi ha permesso, con queste conoscenze, di inventare, chiamiamolo questo logo, che poi è stato registrato dalla comunità europea, per me è molto importante. Praticamente si mettono insieme tre cosine, poi bisognerebbe molto più approfondire. Movimento fisico, l'ascolto, è molto più ampio dell'ascolto, nel senso che vuol dire che ci sono all'interno dell'ascolto come ascoltare la musica, dalle strumenti che utilizzo, del violino, delle campane tibetane, delle campane di cristallo antiche, del diaposon, suono, puntura, una miriade di cose. E la voce, che anche qui non significa solo cantare, non è solo cantare delle mantra, è delle vocali o delle consonanti. Questi io chiamo i tre punti che si uniscono, sono il triangolino, ecco. Scusatemi, se mi permetto di dire un secondo, in movimento fisico tante persone mi dicono, ma che cosa serve? È molto importante, soprattutto nel gruppo, danzando, facendo un'attività fisica, mi capite qualche minuto, ma anche nella vita quotidiana, perché si è vista, si è verificato, che facendo un'attività fisica, prima di aver ascoltato una musica, dopo, quando ascolti la musica, il tuo corpo e la tua mente è più predisposto ad ascoltare. Lui aggiunge addirittura l'attività fisica. È logico, perché spostarsi mette in moto le cellule, si dice che per esempio gli anziani devono muoversi per rimanere giovani, eccetera, perché mette in moto le cellule, quindi in qualche maniera cosa succede? Succede che le energie si muovono da una cellula all'altra, i liquidi si spandono da una cellula all'altra, le vibrazioni anche si spandono da una cellula all'altra, quindi ecco, il movimento è fondamentale, però pensiamo per esempio al Tai Chi, che è una tecnica che viene usata in cui si prende il prana in qualche maniera e lo si indirizza nella maniera giusta. La musica chiaramente è qualcosa di più perfetto, nel senso, come dicevo prima, sette note, sette pianeti, gli accordi principali, è qualcosa di più profondo che sta dentro l'uomo e non a caso noi abbiamo, ripeto, un organo di senso che è l'udito che ci permette di cogliere le differenze dai suoni, però queste differenze poi arrivano qui, arrivano al cuore. E Luca Vignali non solo dice arrivano al cuore, ma attenzione perché ci sono collegamenti con i chakra legati al sistema nervoso e andiamo a sentire anche questo passaggio. Sì, è uno dei tanti modi che si possono diciamo prendere questo equilibrio. Io faccio un esempio pratico, c'è una scienza che viene divulgata e adesso è molto presente anche da tanti relatori, non del suono, che è la cimatica che significa studia attraverso i suoni con le figure. Praticamente, ad esempio, in una goccia d'acqua visibile a pienudo, si mette vicino un autoparlante che c'è la musica, quest'acqua ovviamente si forma. A livello anche microscopico, ma non solo microscopico, si formano delle figure geometriche. per farvi notare come i suoni con l'acqua soprattutto cambia delle forme geometriche. Il nostro corpo è costituito gran parte di liquido, 70% o poco più. È lì io chiamo il tema conduttore dove va a verificare queste, chiamiamole cure, ma insomma avete capito, un equilibrio o una specie di proprio equilibrio? Non ci sono altre cose da dire. Ecco, lui aggiunge l'acqua. Sì, beh, ci sono anche le cose che quando per esempio l'acqua di Lourdes fa delle forme particolari quindi ci sono già questo tipo di processi cose molto particolari. Io chiederei la seconda figura numero due perché proprio Keplero ci parla di questo discorso dell'armonia e di questo discorso dell'armonia dei pianeti che hanno in sé questo suono e questo suono corrisponde a questa armonia particolare. Qui vedete c'è un pentagramma ecco, questo fa parte dell'armonice smundi quindi questo l'ha scritto lui nel 1500 erotti 1600 vedete che c'è il pentagramma e ci sono le varie note e ci sono i pianeti Saturnus Jupiter cioè Giove Marte Venere Mercurio a indicare che ogni pianeta ha una sua vibrazione che corrisponde ad un insieme di note allora se quell'insieme di note è la maniera che ha il pianeta di esprimersi però ricordiamo che un pianeta è anche un'energia quindi questa energia ci arriva nel corpo se ci arriva nel corpo può provocare sia delle cose buone quindi guarire sia delle cose cattive quindi far ammalare a seconda del tipo di pianeta e a seconda del tipo di suono cioè il suono grave per esempio è chiaramente Saturnino il suono acuto sarà magari più marziano o più mercuriano e il suono melodico sarà più venusiano quindi questo discorso del suono legato alla struttura della cellula le cellule sentono in qualche maniera se noi andiamo per esempio a livelli molto alti il nostro orecchio ha una gamma di frequenze se noi andiamo in una discoteca dove la musica è a livelli molto alti è chiaro che un po' il nostro orecchio va in tilta e non sentiamo più niente quando usciamo questo è un fenomeno che tutti avranno provato però soprattutto ci sono dei suoni che fanno bene e dei suoni che fanno male non so se pensiamo a Chopin ai notturni di Chopin quella è una musica che guarisce perché in qualche maniera ha pianoforte può avere violino può avere flauto tutti questi strumenti che sono strumenti venusiani venera la dea dell'amore portano armonia ed equilibrio ecco nella terza foto che abbiamo Claudio che tu hai preparato c'è la scala dei pianeti ecco questo che mi interessa questa qui è arrivata un po' dopo nel senso che questa è Marziano Cappella siamo già nel 1006 quindi siamo un po' dopo Cheplero però questa rappresentazione mette i vari pianeti con le note e le differenze qui vediamo addirittura le differenze cioè ormai a livello musicale ci siamo molto evoluti rispetto rispetto al periodo di cui abbiamo parlato cioè anche se vogliamo il primo medioevo ma tornando indietro agli armeni ai greci perché qui addirittura arriviamo ai diesis e ai bemolle i toni sono i mezzi toni infatti c'è una scala di toni e mezzi toni che pensando alla tastiera del pianoforte sono quei tasti neri che vedete sulla tastiera sì ed è la stessa cosa dell'astrologia se mettiamo toni e mezzi toni arriviamo a 12 se mettiamo solo praticamente i tasti principali sono sette sono i sette pianeti sacri cioè fino a Saturno sono le luna Mercurio-Venere Marte-Giove-Saturno perché Saturno è l'ultimo pianeta che si vede gli altri non si vedono però alla fine diventano 12 quindi c'è sempre questo discorso del 12 dell'armonia del 12 che torna questa immagine è interessante perché questo è già un modo come dire ogni pianeta lo ripeto ha un suo suono siccome ogni pianeta ha un'energia che può essere buona o cattiva a seconda delle cose che fai con quell'energia lì diciamo così Marte può essere positivo se tu sei uno sportivo però è negativo se tu sei un aggressivo logicamente te lo butti contro gli altri Venere è uguale quindi questa cosa è fondamentale e questa è la base del suono come cura perché da qui poi vengono gli aspetti dei pianeti senti nella quarta foto che tu hai preparato parli dei vasi di Teone di Smirne quello che abbiamo detto all'inizio che sono praticamente gli aspetti fra i pianeti gli aspetti fra i pianeti quindi la diversa possiamo dire frequenza del suono questa cosa fu studiata anche da Pitagora ancora prima forse di Teone di Smirne con i martelli lui aveva preso dei martelli di dimensione diversa e a secondo di come li batteva sul ferro il suono aveva capito che il suono era diverso a seconda della dimensione diciamo del martello ecco e non a caso Luca Vignali ci parla dei suoni dei quarzi di cristallo proviamo a sentirlo siamo ad un livello superiore diciamo che continua l'evoluzione e sentiamo partiamo dall'inizio anche questo coppi di cristallo o campani di cristallo il temene è svariato ma è uguale cosa significa sono degli strumenti molto particolari io la fortuna proprio mi ritengo fortunato ne ho 48 sono antichissime me le hanno donate nessuna pensate mia magari anche perché hanno valore enorme hanno dai 70 ai 60 anni fino la più vecchia 504 anni compiuto ieri sono dei avete presente come dei vasi di fiore veramente dei vasi di fiore di fiore piccoli così ma possono essere anche grandi con un diametro di un metro anche di un metro e mezzo e producono dei suoni essendo costituite di silicio e ripeto queste sono state antiche quindi ovviamente provengono io ci sono stato in questo posto che non si può dire purtroppo è in centro non in centro ma in centro degli Stati Uniti tra l'altro è un posto molto particolare si va sotto a 7 km di profondità 7 km di profondità c'è proprio delle gallerie li producono estraendo di silicio vengono fuse e vengono dopo rimpostate facendolo come un vaso diciamo che è molto semplice dirlo così ma ci vuole una preparazione di anni per che il suono venga proprio udito io lo chiamo puro genuino semplice suono bello ecco per farlo intendere bene dicevo Claudia all'inizio guarda caso non solo il mistero ma si associa il luogo un luogo che non ha voluto nominare dove a 7 km sotto la superficie terrestre vengono costruiti questi vasi chiamiamoli così particolari lui addirittura ne ha che hanno 500 anni valori inestimabili dice pensiamo che le campane tibetane venivano usate appunto nel Tibet quindi sono antichissime io penso che questi luoghi sono legati o al deserto dell'Arizona come questi luoghi selvaggi che ci sono nel centro degli Stati Uniti vorrei fare una riflessione sul silicio il silicio è un componente fondamentale è un cristallo fondamentalmente ed è Saturnino e Saturno ripeto è l'ultimo pianeta della serie poi non dobbiamo dimenticare un'altra cosa che le pietre le pietre hanno dei suoni abbiamo visto in altre puntate quando parlavamo di Il Degarda che curava con le pietre quindi le pietre sono fondamentali il cristallo di rocca o il quarzo rosa o la metista curava con i cristalli curava con i cristalli ma perché? perché il cristallo è una vibrazione quindi ha un suono quindi in qualche maniera viene preso dall'udito e continueremo naturalmente perché adesso si chiude qui la prima parte però a proposito dei quarsi e dei vasi dei quali ci ha parlato ci ha parlato Luca Vignali al termine di questa puntata avremo un piccolo spaccato dove lui fa vedere ad un uditorio davvero molto molto ampio l'uso di questi cristalli e come vengono usati questi vasi di cristallo e di quarzo e allora beh allora adesso noi ci fermiamo ma ricordatevi che il nostro viaggio continua 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 a tra poco ben trovati amici di luoghi misteri il nostro viaggio quello di questa puntata riguarda la musica ma in particolare il fatto che si possa guarire o addirittura anzi o si possa trovare l'armonia dentro il nostro corpo e la cui armonia ci può portare poi anche alla guarigione di certe malattie usando la musica in un modo particolare ad esempio il suono del violino che varia a seconda della tiratura della corda perché la corda non si accorda solo tirandola ma si accorda anche con il suono la vibrazione viene misurata in hertz anche con gli hertz e si va dai 432 hertz fino a misure addirittura superiori che servono appunto per far armonizzare il corpo e quindi innescare quella catena di benefici per noi stessi però ci siamo fermati Claudio ai vasi di teone perché il nostro percorso è anche un percorso parallelo a quello che ci racconta il nostro amico Luca Vignali che è un professionista della guarigione con la musica in parallelo con la storia con la storia dell'uomo perché da quando l'uomo ha cominciato a lasciare segni del suo passaggio abbiamo anche segni importanti addirittura poi quando è arrivata la scrittura con scritture che ci raccontano del fatto che già i primitivi si erano accorti che stimolando certi suoni il corpo reagiva e reagiva in modo positivo io partirei dalla immagine numero 5 dove riprendiamo il discorso che aveva fatto Keplero e il discorso vedete dei toni e degli accordi principali quindi qui vediamo la quarta la quinta e l'ottava e il tono di base che sarebbe la congiunzione che questi sono i rapporti fra i pianeti quando due pianeti a quella distanza di ottava è come se fosse un'opposizione oppure sono in trigono sono in congiunzione quando hanno il tono quindi questo dà una certa caratteristica e questo è importante capire che gli aspetti fra i pianeti vengono dalla musica questo non pochi lo sanno già Tolomeo Claudio Tolomeo aveva scritto un libro nel centro dopo Cristo sull'armonica cioè le armonie quindi Keplero riprende un po' tutta questa serie di discorsi aggiungerei un'altra cosa che a questo se vediamo la figura seguente numero 6 vediamo che a questa immagine noi possiamo sovrapporre i quattro umori agli intervalli musicali quindi a questi intervalli musicali vedete ho passato all'intervallo musicale i quattro umori base del corpo cioè la bille gialla la bille nera praticamente il sangue e la flegma ecco vedete quindi sono gli stessi aspetti armonici quindi planetari fra i pianeti non fanno altro che cambiare la composizione degli umori del corpo gli umori del corpo sono quelli che secondo Ippocrate determinano le malattie o lo star bene o lo star male quindi dobbiamo ritornare un po' a questa maniera diciamo di vivere in modo più equilibrato aggiungerei un'altra cosina quando parlavi del violino dell'iuto l'altra componente fondamentale oltre alla corda è il legno il legno particolare che una volta si voleva per fare gli stradivari che non si trova più è certo anche questo anche questo il contenitore sì sì anche questo è vero e poi rimanendo per un attimo ancorati ai pianeti che hanno un suono cioè a me io più andiamo alla ricerca di questi misteri più mi sorprendo di quanto l'uomo comunque nell'antichità fosse evoluto nello studio della nello studio della del cielo della volta celeste come allora lo volevano chiamare poi abbiamo capito che è un cosmo che è un universo che si espande continuamente dopo dopo le ricerche di Einstein e soprattutto di coloro che intorno al 1940 1950 hanno cominciato a studiare il cosmo e a capire che in effetti non si trattava di un qualcosa di fisso ma di un qualcosa che è continuamente in espansione ed è formato ed è formato da 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 miliardi di miliardi diciamo che le stelle hanno delle vibrazioni queste vibrazioni noi le possiamo registrare ma noi ci siamo arrivati a registrarle quando abbiamo mandato nell'universo dei telescopi enormi che hanno cominciato a registrare il suono delle stelle ma loro non li avevano i telescopi nell'universo loro però facevano delle altre operazioni che forse secondo me sono più importanti tu hai giustamente detto all'inizio quando parlavamo dello sciamano lo sciamano cosa fa? tramite il suono riesce a richiamare dell'entità o degli spiriti buoni o cattivi che siano o tende a cacciarli via e quindi in qualche maniera ricordiamo che il suono viene usato in molte arti magiche gli antichi diciamo gli antichi i popoli diciamo antichi avevano questa capacità di avvicinare e allontanare gli spiriti buoni e cattivi quindi andiamo in un'altra dimensione il suono proprio perché sono vibrazioni passa attraverso il corpo pensate alle cellule che sono fatte d'acqua e quindi il suono passa attraverso le cellule una all'altra quindi si trasmette l'una all'altra quindi un suono positivo può in qualche maniera rinvigorire le cellule un suono negativo disturbante può invece non dico farle ammalare però renderle un po' più stanche un po' che funzionano meno ecco ecco e il fatto che si possa guarire anche se guarigione come abbiamo detto è un termine un po' troppo importante no non non vorrei che che i telespettatori qualche telespettatore si confondesse sì si può eventualmente guarire da qualche malattia che che viene da un particolare nostro può venire da un particolare nostro momento diciamo che sicuramente si cura la depressione sicuramente puoi curare la depressione la malinconia la creatività l'altro elemento fondamentale non dimentichiamo è la creatività ma ci sono anche alcuni casi alcuni casi particolari e alla nostra domanda al nostro Luca Vignali al nostro interlocutore domanda specifica perché io ho chiesto guarigione come si fa con i suoni ad arrivare ai centri energetici e ad arrivare eventualmente alla guarigione sentiamo sì io ho una metodologia un po' particolare nel senso che i suoni aiutano tantissimo arrivare io devo sempre ammettere non sono medico quindi non posso parlare di guarigioni mi sembra una parola un po' anche se ho avuto veramente tantissimi casi ma parlo di me stesso io non sarei qui se non ci fossero i suoni anni fa veramente e la cosa più incredibile è che è proprio un misto di queste tecniche che ti permettono attraverso delle vibrazioni che emettono nel tuo corpo poi ci sono anche altre tecniche dinamiche che dopo possono emergere nelle persone e qui un po' arriva il fulcro della situazione metti un po' il corpo in modo di ristabilire questo equilibrio lo ripeto lo ribadisco sempre questa parola un equilibrio e dopo si può arrivare anche a certi certe guarigioni ad esempio una persona che fa parte del mio gruppo proprio pochi giorni fa mi ha detto che è guarita da una psoriasi si grattava sempre il corpo 24 ore 24 ore è una cosa incredibile ha fatto di tutti per anni per anni ma io intendo anche 20 anni di questa ragazza a 38 anni è completamente guarita è solo dei suoni mi ha detto anche lei veramente non abbiamo fatto niente perché non ne poteva più ho tanti casi poi dico non è solo quello perché dipende anche dalla persona e da tante altre cose però i suoni hanno questo potere immenso veramente potere immenso beh allora diciamo la psoriasi è una malattia che ha una componente sicuramente credo psicosomatica fortissima è una malattia che è molto difficile da curare al giorno d'oggi si cura con la luce alla fine perché l'unica cosa sono i raggi ultravioletti se non mi sbaglio però ha una componente psicosomatica quindi è chiaro adesso si può curare con l'omeopatia c'è chi la cura con l'omeopatia però è chiaro che il suono è importante perché c'è un elemento di squilibrio abbiamo visto prima la melanconia di base che viene messo a posto sistemato col suono quindi con l'armonia quindi con la calma quindi c'è una cosa diciamo psicologica ho visto altri interventi di Vignali e lui dice giustamente che alcuni suoni per esempio possono aiutare le donne durante la fase mestruale perché in qualche maniera le tranquillizzano e fanno passare i dolori non dimentichiamo che la cellula non si ammala subito ha un certo tipo di risposta diciamo che passa una fase in cui non è proprio non funziona proprio perfettamente poi può o tornare indietro quindi guarire di tornare come prima o ammalarsi quindi se si riesce a intervenire in quella fase prima che scoppi diciamo secondo me la malattia la patologia sicuramente si può star bene torniamo al discorso di prima però la musica equilibra un certo tipo di musica fa funzionare meglio le cellule ma lo sentite anche voi se avete un impegno importante magari se ascoltate la musica classica prima di andare in un posto sicuramente starete meglio e certamente questo è vero ma torniamo alla musica perché poi sentiremo perché ho fatto un'altra domanda che ha definito molto importante Luca Vignali però io vorrei partire invece dalla figura 8 che tu hai selezionato che è quella che riguarda Cicerone e in particolar modo torniamo ancora lì alla musica dei pianeti perché comunque il nostro minimo comune denominatore è la musica che ci dobbiamo ricordare la musica come via di guarigione allora questa frase l'ho presa da un'opera famosissima di Cicerone che è il Somnium Scipionis che è un'opera esoterica lui fa questo sonno e vede questo antenato che è questo Scipione africano comunque di quel tempo lì e che in qualche maniera lì racconta qualcosa sulle anime sullo spirito sui misteri su quello che c'è di là e fra l'altro cita questa cosa sul suono rispose è il suono che sull'accordo di intervalli regolari che sono gli aspetti fra i pianeti gli intervalli regolari eppure distinti da una razionale proporzione perché c'è un elemento matematico quello che abbiamo visto in Keplero la razionale proporzione risulta dalla spinta e dal movimento delle orbite stesse dei pianeti quindi la differenza di movimento dei pianeti che possono essere più vicini o più lontani a noi e quindi hanno un movimento diverso più lento più rapido e quindi hanno una vibrazione diversa quindi hanno un suono diverso ecco perché Keplero parla di armonia delle sfere equilibrando i toni acuti con i gravi è chiaro che l'equilibrio sta in mezzo crea accordi uniformemente variati gli accordi sono gli aspetti fra i pianeti ripeto per chi non lo sapesse congiunzione sestile quadrato trigono opposizione che sono quelli che danno le caratteristiche della personalità e dell'uomo del resto movimenti così grandiosi non potrebbero svolgersi in silenzio quindi deve esserci qualche cosa che trasmette e la natura richiede che le due estremità risuonino di toni gravi l'una e acuti l'altra se pensiamo che questo è stato scritto intorno all'anno zero un po' prima di Cristo è veramente meraviglioso quest'opera poi qualche decina di anni prima di Cristo sì quest'opera il Somnio Scipionis è interessante perché ripeto un'opera esoterica andrebbe in qualche maniera letta perché sono molte cose importanti sia sull'anima sull'incarnazione eccetera e qui Cicerone si fa una domanda tutti i morti nella battaglia di Canne aveva tutti quanti lo stesso oroscopo? questo lo lasciano gli telespettatori andiamo un po' più in profondità no? no per dire come nonostante fosse un filosofo un letterato si poneva comunque una serie di domande che stanno nell'uomo nel destino dell'uomo ed è strano comunque che queste grandi opere che riguardano anche se vogliamo come hai detto tu vanno diciamo oltre a quello che noi definiamo la normalità vengono ispirate o almeno ci raccontano che vengono ispirate nel sonno no? così come come lo stesso Dante ci racconta che la Divina Commedia gli è arrivata praticamente nel sonno così come Maumetto raccontava che che il Corano gli era stato dettato o arrivato comunque o nel sonno da da Dio così come Mosè scese dal Monte Sinai raccontando che Dio gli aveva dettato i dieci comandamenti beh questa è l'illuminazione divina del cielo che arriva sulla terra e trasmette delle cose e quindi potrebbe essere l'illuminazione divina anche quella di riuscire a capire ad interpretare come l'armonia del nostro corpo può tornare e uso una ripetizione armonica armonica rispetto al nostro modo di vivere grazie alla musica e proprio di come un suono diventa armonico ho chiesto a Luca Vignani sentiamo io dico sempre ogni suono è un'armonia o più suoni suonati contemporaneamente è un'armonia ovvio che nel gergo musicale ci sono quelle consonanti che sono più gradevoli ad ascoltare oppure quelle dissonanti che significa sono più sgradevoli ad ascoltare nell'ambito terapeutico non esiste più di tanto questa distinzione perché è molto soggettivo varia da persona a persona quindi non esiste un protocollo un modello prestabilito uguale per tutti più o meno è quella ma dopo varia da persona a persona dipende dalla tecnica dipende dal modo di usarla da come bisogna gestirlo il suolo ecco senti quindi anche lui ci dice soprattutto di come gestire il suono e dalla tecnica quindi non è tu hai raccontato diverse volte e accade che ad esempio ascoltando una suonata di Chopin o di Liszt con suoni molto armonici molto rilassanti certamente non come non come le varie suonate di Beethoven o di Mozart si può arrivare comunque a trovare quell'armonia magari o quella serenità interna che ti può portare poi come dicevi tu a reggere magari un colloquio di assunzione o altro beh diciamo comunque questo discorso dei suoni è stato sfruttato anche negli allevamenti hanno visto che quando fanno sentire la musica classica le mucche producono più latte quindi un effetto sulle cellule questo sicuramente ce l'ha qui non è a questione gli animali non è che siano influenzabili come può essere l'uomo da un punto di vista psicologico è chiaro che c'è un effetto fisico questo gli antichi l'avevano capito l'altro elemento su cui mi volevo fermare lui ha detto che non esiste un modello prestabilito questo io sono totalmente d'accordo perché l'astrologia ci dice la stessa cosa se noi torniamo all'immagine numero 6 i quattro umori hanno una loro proporzione nell'uomo a seconda dell'individuo i miei sono diversi dai tuoi e io li devo mantenere equilibrati questi se si squilibrano io mi ammalo mi ammalo di quella malattia in cui c'è quell'umore in sovrappiù che non corrisponde alla mia struttura la mia complessione la chiamavano gli antichi allora ecco qui interviene la musica perché io posso aumentare o diminuire quell'umore che mi manca usando dei suoni o musica accordi di un certo tipo contrapposti a quell'umore che mi manca o cui io voglio aumentare ecco e poi come tu ben sai Claudio ormai ha imparato a conoscermi a me mentre mentre registro queste clip vengono poi in mente delle domande non programmate no? e mi sono chiesto ma allora c'è differenza fra suono e canto? eh sì sentiamo cosa dice Luca Vignali sicuramente allora è una domanda molto bella questa qui è molto approfondita che richiede molto tempo anche per parlarne allora io come adesso sto parlando parole voce emerge dei suoni questa distinzione non c'è suono e voce la voce praticamente io dico sempre è un suono o più suoni che emergono dentro dal di dentro della persona come io sto parlando non c'è un fattore esterno come potrebbe essere uno strumento musicale suonato da altri anche se è suonato da se stesso io sono un violinista che suona un violino viene da me ovviamente il suono ma c'è sempre un mediatore che è il violino che permette di far esaltare o risultare che viene fuori dei suoni la voce è proprio ancora più dentro ripeto sto parlando viene fuori la mia voce da dentro il mio corpo quindi c'è distinzione ma non c'è distinzione nell'arte della terapia del suono la voce è molto ma molto ma molto importante perché ripeto con le vibrazioni che si producono con la voce si fanno questi detti in parole prove in parole grezzo io chiamo queste forme geometriche nel nostro corpo e hanno un'influenza sul nostro corpo e dopo di che va anche influire sulla mente anche sulla psicologia della persona e su tutto il resto del corpo come anche gli strumenti ma la voce è non dico che è più bello più importante ha una grande importanza tutto qua poi divinirebbe molto molto più approfondire la questione beh la voce è un elemento personale individuale viene fuori dal corpo come ha detto lui al mediatore che è l'aria e quindi pensate che persone che hanno una voce gradevole o sgradevole ci sono delle persone quando parli a telefono che ti stancano che hanno delle voci che pungono e persone invece che ti tranquillizzano che si addormentano pensate le mamme che praticamente cantano i bambini la nanna i bambini si addormentano quindi il corpo è questo mediatore quindi la voce che viene fuori dalla nostra corpo indica un'energia che noi abbiamo dentro di un certo tipo quindi ci sono dei cantanti che hanno un certo tipo di energia altri che ne hanno altro beh certo ma in questa nostra puntata abbiamo parlato dunque della musica di come si può arrivare ad armonizzare il corpo fino a certi livelli e riuscire a guarire anche di qualche malattia però però non abbiamo fatto vedere nulla ai nostri telespettatori allora abbiamo sentito Luca Vignali che dice io sono un violinista e curo molto con il violino ma l'abbiamo sentito anche dire io ho delle campane e delle dei quarsi eccetera che uso per la guarigione alcuni hanno addirittura più di 500 anni vogliamo sentire un attimo un passaggio durante una delle tante manifestazioni pubbliche nelle quali Luca Vignani è protagonista poi effettua terapie anche a livello privato naturalmente per avere un piccolo esempio ma se ritornate con la mente allo sciamano e alla puntata che abbiamo dedicato avendo ospite uno sciamano e alla musica ritornerete e capirete forse qualcosa in più sentiamo in più un' katica in più un' katica e la musica di Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' sempre una vibrazione. Poi un'altra cosa aggiungerei, la pietra che è importante, sono pietre antiche, quindi hanno un'energia ancora più antica, questo non dobbiamo dimenticarlo. Poi l'altro strumento, dicevi tu, è il violino, perché anche il violino è uno strumento venusiano e quindi è uno strumento che dà un suono dolce o comunque dà un suono che equilibra. Questa è l'altra cosa importante. E' totalmente abituati ad averli che non pensiamo che cosa in effetti c'è dietro e che storia c'è dietro. Il nostro viaggio continua. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie.